Fatto 100, il bilancio dell'amministrazione Melucci in 100 azioni concrete. Quante chiacchiere, quante favole, vero Rinaldo? Ne hai raccontate di favole, quante bugie. Pensate, siamo in Villa Peripato. Al punto 27 di questo Fatto 100 si parla di riqualificazione della Villa Peripato. Alla faccia della riqualificazione, Rinaldo, guardate, quella che era la ex piscina che si è trasformata in un campo di erbacce e di rifiuti. Che tristezza! E tu parli di riqualificazione? Menti sapendo di mentire. Cittadini di Taranto, poniamo uno stop, grande quanto un grattacielo a queste menzogne. Il 12 giugno vi chiedo di accordarmi la fiducia. Per Taranto ho sempre lottato da giornalista, dando voce a chi non ha voce. Consentitemi, permettetemi di farlo anche da sindaco. Grazie a tutti.